Vieni a Bologna, cosa fai nella vita a Bologna? Lavoro alla Mardocchi Alla Mardocchi, cosa fai esattamente? Alla pompe in Ravoli A pompe in Ravoli, perfetto Bene, bene E come vorresti la pompa è la donna ideale? L'importante è che sia affettuosa Una donna affettuosa ragazzi Benissimo, bene, vedrai che la troverai, perfetto Bene, bene, la serata è partita bene Ho mandato un messaggio fuori, non c'è scritto A chi lo devo portare Ragazzi, fuori dovete scrivere a chi lo devo portare Mi tocca via finita E poi cos'è? Il messaggio dov'è? Non lì che voto del senato Non scrivelo, eh C'è un numero Devi scrivere quello che ti esce dal cuore Con tutta te stessa Ti firmi Oì, partiamo dal cuore, dai, ti devo dire Ok, bene A numero